buongiorno a tutti ben ritrovati qui su Radio Rosso Nera è un buongiorno per davvero visto che è praticamente l'alba di eh lunedì ventiquattro luglio del duemilaventitré non è finita da molto Milan Real Madrid il Milan vincito e zero poi si fa rimontare e perde tre a due alla fine della gara complice qualche errore difensivo di troppo soprattutto un errore eh di Marco Sportello per il due a uno edifica gli otomori per il due a due eh poi insomma la partita l'avete magari vista già chi è riuscito a rimanere sveglio fino alle quattro per vedere la prima amichevole vera del Milan dopo la sgambata contro l'Umezane eh a Milanello o magari chi l'ha eh recuperato durante il corso della mattinata oggi nell'editoriale ovviamente parliamo un po' della partita delle prime indicazioni eh che ha dato la gara con tutte le diciamo così le attenuanti del del caso e poi eh anzi facciamo così giustamente meglio far parlare il sommario che ricordarsi la memoria promossi di Milan Real Madrid eh sarà la prima parte del eh dell'editoriale non me la sentirò onestamente ribocciare nessuno a con giocatori che magari hanno due o tre allenamenti nelle gambe e chi magari ne ha qualcuno in più ma insomma la prima amichevole porta soltanto delle indicazioni e nulla più eh però ovviamente parleremo di questo nuovo Milan che sta nascendo che mi sembra più quasi un ibrido nemmeno un 433 ma ne parliamo troppo poco il punto di mercato su quello che sono state le ultime eh trattative del Milan chiuse chiudibili e soprattutto anche quelle in uscita e poi chiudiamo con il solito punto sullo stadio visto che ci sono state delle novità in settimana è giusto darne conto eh partiamo dalla amichevole della partita col col Real eh se l'avete vista e se volete insomma mettere anche voi i voti qua sotto è giusto farlo ovviamente eh non farò delle paggelle complete su tutti i giocatori perché non mi sembra eh il caso lo faremo lunedì dopo lunedì eh nell'editoriale quando eh ci sarà la partita del weekend e gli impegni conteranno per davvero ma l'amichevole contro il Madrid non mi sembra essere l'occasione giusta per iniziare a dare voti o sentenze eh partirei subito con Marco Sportiello che ha fatto sicuramente una buona gara qualche buon intervento pesa ovviamente sulla sua prestazione il brutto errore ma anche proprio di concetto sulla eh sul tiro di Valverde un tiro centrale che ha visto il portiere del Milan a acuvacciarsi e non riuscire a prendere la palla con le mani che le ha un po' sfuggita tra tra le mani insomma un errore singolo che purtroppo ha pesato perché il Milan fino al due a zero aveva tenuto anche soprattutto nella prima parte di secondo tempo bene il il ritmo della della gara linea difensiva iniziale composta da Simic e eh Ficario Temori con i lati Florenza a sinistra e Calabria a destra che si era discretamente ben comportata anzi si è discretamente ben comportata quindi onestamente non ho niente da dire su di loro tranne che per le gioie e dolore di Ficario Temori gioie per il gol di testa molto bello sul cross di Christian Pulisic sul corner di Pulisic abbiamo già intravisto che Christian Pulisic i corner li sa battere e aveva battuti bene sia contro il Lomenzane che stasera quindi bene aver messo un giocatore che bene batte gli angoli cosa che ci è mancato un difetto atavico del Milan da tantissimo tempo a questa parte male perché il difetto di impostazione che ha portato al 2 a 2 sempre di Valverde è da matita rossa è un brutto errore di eh anche qui di concetto una palla orizzontale lenta al compagno senza che ci sia la possibilità che questa possa arrivare perché c'erano ben due giocatori del Real Madrid su quella linea di passaggio davanti a loro bene Krunic direi anche bene Tommaso Povega io vi direi molto bene Loftus Cic che era uno degli osservati speciali del primo tempo e ha fatto secondo me una buonissima partita ci ha fatto vedere quello che questo ragazzo può portare al Milan ovvero tanto fisico tanta corsa ma abbinato a una buonissima tecnica perché l'abbiamo visto ripartire più volte l'abbiamo visto andare anche a chiederlo uno uno l'uno due contro con il compagno per inserirsi l'abbiamo visto rifinire anche in occasione del gol di di Luca Romero l'abbiamo visto vincere i contrasti spalla spalla tornare insomma è un giocatore completo una bella mezzala perché questo è Ruben Loftus Cic poi ne parliamo dopo mi è sembrato quello più ibrido di tutti ma lo lo vediamo nella seconda parte della dell'editoriale direi bene Pulisic che ha dimostrato di avere una buonissima qualità bene in ripartenza si è anche applicato in fase difensiva quindi direi bene Pulisic perché lì a sinistra difficilmente lo vedremo spesso anzi quasi mai perché poi abbiamo visto chi c'è nella ripresa l'abbiamo visto il titolare del ruolo cosa è capace di fare avere Rafa e Leao però avere un'alternativa come Pulisic sarà di grandissimo aiuto soprattutto in quella parte di campionato e lo sappiamo bene il nostro calendario soprattutto all'inizio ci impone di giocare anche spesso tre volte a settimana con degli impegni molto importanti e quindi avere Pulisic e Leao e dopo ne parliamo ciò quese sugli esterni ci darà grandissima qualità bene direi anche la prima parte di Messiasi poi infortunato anche se il tiro che è andato sul fondo giocato un pizzico meglio poteva portare al gol subito il Milan magari servendo Lollo Colombo che a proposito a me piange un po' il cuore su Lollo Colombo pensare che possa restare a fare la terza punta diciamo che cinicamente per il Milan andrebbe bene per lui un po' meno io spero di vedere Lollo andare a giocare perché ne ha bisogno mi sembra un buonissimo prospetto di giocatore una buonissima punta poi non so se sarà mai in grado di fare il titolare al Milan però in Serie A ci sta ci sa stare l'abbiamo visto anche a Lecce ci può stare tranquillamente spero per lui che possa avere la possibilità di andare a giocare poi il Milan diciamo così analizziamo un po' al primo tempo è partito 4-3-3 ma non è proprio un 4-3-3 l'avevamo anche visto contro il Lumezzane soprattutto la mezzata di destra cioè l'Ottucic e quella incaricata in non possesso di alzarsi molto e quando siamo in non possesso per paradosso siamo più 4-2-3-1 lì che quando abbiamo la palla è proprio la mezzata di destra che va a prendere il play offensivo lo ha fatto l'Ottucic lo farà nella seconda parte di Chetelare è la mezzata di destra in questo caso che si alza in prima pressione ad aiutare la punta ad andare a chiudere gli spazi centrali della ripartenza avversaria mi è sembrata una buona scelta è ovvio che quando ancora le gambe non funzionano quando gli automatismi non sono al meglio quando insomma le cose non vengono alla perfezione i meccanismi non sono ben oliati i rischi di prendersi delle ripartenze pesanti in faccia c'è e il Madrid ne ha almeno collezionate due o tre di buon livello un po' perché è il Real Madrid e la qualità viene da sé perché comunque tra Camavinga e Cross insomma la qualità direi che c'è in abbondanza ma anche per dei tempi non perfetti da parte nostra ma d'altro noi siamo al 24 di luglio anche giusto che sia così interessante è vedere il Milan che è un po' tornato all'antico non è nemmeno un 433 scolastico e era logico che non fosse un 433 scolastico ma è davvero un un ibrido tra un 433 e un 4231 molto simile a quello che avevamo visto due o tre anni fa il Milan più con Canciola Noglu più con Frenchesi e a volte con Rade Crunici in tre quarti ed è un po' quella la strada che prenderà il Milan soprattutto inizialmente si proverà a giocare con un centrocampista in più che poi si si alzerà in tre quarti ma con un centrocampista vero chi che sa fare il centrocampista in quella zona di campo che poi va a prendersi la la tre quarti mi è sembrato di rivedere anche un Milan più offensivo quando ha la palla mi è sembrato di rivedere un Milan che provi a giocare un po' di più perché il Milan è che si era adagiato su Leao a sinistra e la palla lunga su Giroud nella seconda parte del campionato può pagare per poche pochissime partite ma non può pagare sul lungo periodo e l'abbiamo visto mi è sembrato anche di rivedere l'aggressione alta che tanto bene aveva fatto per il Milan nelle scorse stagioni ora sono ovviamente delle primissime indicazioni che dovremmo rivedere nelle prossime amichevoli contro la Juve contro il Barca contro il Monza e poi vedremo nelle nelle prime uscite stagionali però direi bene il Milan io non so cosa ne pensate voi scrivo se volete scrivere un commento sulla gara qua sotto nei commenti c'è la possibilità di farlo un piccolo mini vostro editoriale nei commenti eh cosa buona e giusta così lo lo leggiamo e poi lo commentiamo insieme eh mi è sembrato un buon Milan però eh con con già le idee chiare è ovvio che tempi gamba e quant'altro fa fatica però bene direi bene il Milan del della prima ora di gioco perché poi insomma complice l'errore di dei fin difensivi è complice una gamba che è andata spegnendosi i titolari della prima parte di gara eh direi direi bene eh mi concentrerò su qualche singolo ora perché se sullo F2C che abbiamo detto è stato molto bene molto bravo in ripartenza è stato molto bravo anche recuperare palla ma quello che mi sembra la cosa principale che porta al nostro centrocampo è tanta fisicità abbinata a una buona qualità eh questo connubio questo mix ci è mancato tanto l'anno scorso quando magari avevamo fisicità perdevamo in qualità quando provavamo a mettere un po' di qualità perdevamo in fisicità lo F2C che ci riporta ad avere un centrocampo tanto fisico sì ma anche di buona qualità quindi non ci permette diciamo così oppure ci permette di non scendere aumentando la fisicità di qualità eh gli esperimenti poi del secondo tempo perché mi siano sembrati più questi non Raffaele Auca dimostrato ancora una volta di poter sgasare a suo piaceremente a sinistra ha servito un'ottima palla a renders ha servito un altro paio di eh buone giocate anche se da un suo testardimento eh è arrivato poi il il tre a due di Vinicius complice un simonchier particolarmente sulle gambe ehm però il il centrocampo del del secondo tempo è stato veramente un esperimento con lì davanti alla difesa e anche qui vi chiedo se vi è piaciuto Yasin eh davanti alla difesa ovviamente una situazione molto particolare in una fase finale di partita contro il il Madrid dinamichevole lascio un po' il tempo che trovo ma magari qualche indicazione ve l'ha lasciata ehm mi è sembrato dimostrare ancora una volta che i piedi ci sono la testa anche è ovvio che in quella zona di campo serve anche tanto altro soprattutto se i lati hai rendersi e eh di chietelare quindi nessuno dei tre ha propensione difensiva però ha dimostrato di saperci fare soprattutto coi piedi ma Yasin lo abbiamo lo sappiamo di tecnica ne ha da vendere eh magari non è rapidissimo nella giocata magari ogni tanto si perde in qualche tocco di troppo e difensivamente non sarà al massimo però io continuo a non capire perché questo ragazzo non sia mai stato né provato né schierato per più dei centoquaranta minuti stagionali della scorsa stagione perché comunque non mi sembra un giocatore così non degno di avere messo insieme magari tre quattrocento minuti almeno in stagione eh ai suoi lati hanno giocato renders che anche qui indicazioni eh lasciano il tempo che trovano ma la qualità mi è sembrata di tocco di palla di giocata di testa alta ci sia eh ovviamente dei tre è quello più abituato a giocare a centrocampo e si è visto si è visto anche quella quel doppio ruolo che probabilmente gli chiederemo ovvero di mezzala sinistra sì ma in in possesso di abbassarsi anche centralmente per far partire l'azione una sorta di doppio play che male non fa al Milan visto che l'anno scorso è mancata la costruzione dal basso è mancata la 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 trasmissione della palla in zona centrale spesso siamo andati con la palla lunga avere un doppio play lì è grasso che cola rispetto all'anno scorso è è un doppio upgrade del del ruolo di chiederemo mezzala un po' scolastico ma è forse l'unica posizione di campo dove nel caso possiamo vederlo se non dovesse partire perché mi è sembrata davvero l'unica parte di campo con con l'arrivo di ciocquese di pulisici di reau sui esterni siamo chiusi eh davanti forse potrebbe fare l'alternativa giro ma questo ragazzo non per me non ha la velocità anche di di gamba di giocata di pensiero per giocare tanto più su magari mezzala è veramente mettersi di un impegno esagerato a a pensare di ritrovare i tempi e le chiusure le giocate da mezzala che sono ben diverse da quelle delle eh del tre quarti magari quel quella zona ibrida che abbiamo chiesto all'off chic la potrebbe anche fare però c'è bisogno di tantissima applicazione e anche un po' di sporcare quello che è il suo il suo ruolo originario o comunque la sua per disposizione originaria a giocare in quella zona di campo eh bene Giroud bene leau direi anche una buona gamba di te insomma le nostre certezze ci sono e ci sono tutte direi di chiudere con eh con Milano Real Madrid dell'analisi della partita per l'ultimissima eh diciamo così argomenti delle dell'editoriale il punto di mercato perché se per ciò che se siamo praticamente ai dettagli non ci sono grandi eh grandi novità cioè arriverà a breve a Milano per poi sostenere visite e poi la firma sul contratto quindi altro giocatore in arrivo altro gran giocatore che quello che il Mina sta mettendo a destra è un ottimo giocatore è una vera alternativa a Raffaeleau non in campo ma per gli avversari cioè non si potrà più battezzare solo e soltanto Raffaeleau ma ne abbiamo due sulle esterni che sono due frecce eh per davvero con Pulisic poi in alternativa a entrambi quindi un reparto esterni che diventa di grande grande qualità rispetto all'anno scorso o due anni fa eh possiamo dare per chiuso anzi diamo per chiuso il prestito con diritto no scusate il prestito secco con eh la parte diciamo così onerosa a carico del Villareal per eh Matteo Gabbia che va a giocare in Spagna eh per la prossima stagione un prestito che potrà fare bene sicuramente a Matteo che anche qui un po' come per Lolo Colombo vederlo per l'ennesima volta per l'ennesimo anno in panchina come quarta quinta sesta alternativa difensiva direi che è raggiunto l'ora di 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 mandare il buon Matteo a giocare un'intera stagione eh con la possibilità di mettere tanto minutaggio nelle gambe Villareal ha fatto partire Pau Torres quindi insomma adesso non so se Matteo prenderà il posto la titolare di Pau Torres però spazio in difesa potrà trovarne magari sicuramente di più che al al Milan bene direi anche eh l'operazione ah mi ho dimenticato di Romero in tutto questo grandissimo qual di di Luca Romero veramente un un gesto tecnico di di altissima qualità e ha dimostrato di è ovvio che sul ritmo lui è uno dei migliori in questo momento per il fisico longidino e diciamo il poco eh diciamo i pochi chili che si porta appresso però direi direi buona partita anche da la parte di Luca Romero ma vediamo se nella seconda parte di eh d'estate capiremo se ci sarà spazio per lui magari verrà mandato eh a giocare dipende un po' tutto da quello che sarà le nostre uscite e di qui torno a parlare di mercato perché Messias che tra l'altro ha avuto un piccolo problema intorno a mezz'ora di uscito è in uscita ma finora ancora non sono arrivate le offerte necessarie per non andare in minus valenza per il Milan cosa che non vuol fare eh Alexis Salmacher che abbiamo visto eh impiegato alla terzino rischia di vedere molto poco il campo lo spazio si sta un po' riducendo a meno che magari un po' lo ricicliamo in quella sorta di ibrido mezzala di destra che potrebbe fare al caso suo in una situazione così di emergenza potremmo vederlo anche lì in una situazione di emergenza potremmo vederlo esterno basso esterno alto ma sono tutti ritagli eh non so se è il caso di avere un giocatore così da ritaglio eh è ovvio che gli esterni in questo momento sono tre con ciò che esempio di Cereau serve comunque il quarto e probabilmente se non dovesse arrivare un'offerta tale da farlo partire dovrebbe essere proprio Alexis Salmacher ma su Alexis Salmacher incombe una parola grande così eh sulla sua testa ovvero plus valenza è arrivato a molto poco potrebbe andare via un buon eh numero di milioni magari di poco sotto i dieci e tutta quasi plus valenza Alexis Salmacher quindi vedremo come come sarà insomma il suo la sua seconda parte di estate eh a proposito di uscite Ante Revy c'ha una non è proprio un'offerta concreta del Besiktas è più un interessamento Ante per ora non sta aprendo tantissimo eh è ovvio che se domani mattina si sveglia Ante o stamattina si sveglia e decida di aprire al prestito le cose possono anche andare via in maniera molto veloci diciamo che da fino a quando sto parlando non non c'era proprio questa grande idea di Ante di aprire al prestito al Besiktas probabilmente l'Atene un po' a bagnomaria aspettando di avere qualcosa di diverso rispetto a andare a giocare in Turchia un po' come è stato per Divo Coricchi che qualche interessamento da squadre di medio basso livello delle Premier le ha anche avute però eh di andare a giocare in una squadra di medio basso livello in Premier dopo che si è stato al Liverpool e al Milan diciamo così non ha aperto subito a questa chance magari una seconda parte di di estate anche per lui potrà aprire a a una un'accessione a una squadra diversa rispetto alle big e poi vedremo se doveva se se partirà o partirà o meno è molto complicato gestire queste situazioni per per il Milan io penso che il Milan al di là di quello che sono gli introiti dai due giocatori voglia anche un po' alleggerire quello che è il peso a bilancio del degli ingaggi che è un po' salito con con i nuovi innesti e potrebbe tornare più o meno a pari semplicemente cedendo comunque non avendo il peso dei degli stipendi di Rebice e di eh e di Orighi eh per le altre uscite che cosa manca ancora vediamo un po' eh direi che più o meno ci siamo serve serve capire chi perché il Milan lo vuol fare per davvero l'esterno basso di destra eh il Milan lo reputa una una zona da rinforzare chi sarà il prescelto ogni tanto viene fuori che Singo si rianima un po' ma eh penso sia tutto un po' rimandato a all'inizio di di agosto poi magari mi sbaglio domani mattina chiudiamo anche Singo ma mi sembra che in questi ultimi giorni di luglio verrà definito Ciuguese e poi si proverà a chiedere in maniera definitiva al Valencia cosa vuol fare di Musa perché abbiamo bisogno di sapere se il Valencia se il eh il proprietario Peter Lim deciderà di far partire Musa che è in Svizzera sì con il il suo Valencia in ritiro ma comunque c'è anche un problemino al ginocchio non sta partecipando né allenamenti né alle partite quindi è un po' è un po' fermo Musa in questo momento in tutti i sensi è da sbloccare lui è quella l'operazione principale del mercato del Milan dopo aver chiuso Ciuguese. Mi prendo 30 secondi per lo stadio perché poi ne ripariamo in settimana perché in settimana arriveranno novità importanti sullo stadio eh per per raccontarvi quello che sta accadendo allora senza voler fare fughi in avanti perché non è giusto e sarebbe anche particolarmente sbagliato in questo momento eh però San Donato è diventata ormai con le passate delle settimane l'unica eh alternativa e l'unico l'unica zona dove il Milan sta lavorando molto molto concretamente ha acquistato Sport Life City lo sappiamo che è la società che possiede i terreni e che possiede anche parte dei permessi per costruire perché si era fatta dare già dei permessi per costruire in quella zona un palazzetto sportivo da 18 20 mila posti quindi l'uso sportivo e per costruire lì eh Sport Life City ce l'aveva già ora non ha richiesto ufficialmente già il passaggio a poter avere i permessi per costruire l'arena da 70 65 70 mila posti del Milan eh uno stadio che in questo momento non vede tanto del lavoro per quanto riguarda appunto quindi la struttura in sede dello stadio ma quello che sarà intorno allo stadio in questo momento il Milan il comune di San Donato la regione e soprattutto nella seconda parte la regione perché verrà coinvolta soprattutto questo ente eh sta lavorando per mettere in piedi tutto quel piano di infrastrutture necessarie per poi avere lo stadio in quella zona cioè la viabilità le infrastrutture ferroviarie gli svincoli dell'autostrada la bretella che probabilmente dovrà essere costruita ehm tutto quello che sono il piano parcheggi con l'idea del Milan di andarsi a prendere altre due zone limitrofe rispetto all'area di San Francesco proprio per adibirle a parcheggi e insomma si sta lavorando per l'intorno dello stadio però ormai non ci sono dubbi lo abbiamo già capito più di una volta eh ve l'abbiamo già detto forse vi sarete anche annoiati di sentirvelo dire è San Donato l'area eh dedicata dal Milan per la costruzione del nuovo stadio noi siamo arrivati in chiusura se volete mettere like qua sotto c'è la possibilità se volete commentare idem qui sotto c'è la possibilità di commentare la partita quant'altro grazie per essere stati qui con me e con noi di Radio Rosso Nera vi lasciamo tra una circa un paio d'ora da quando uscirà l'editoriale eh con obbligo di riscatto poi il lancio delle tredici il talk delle sedici filo Rosso Nero delle diciannove con la stanza di bottoni eh torneremo a parlare di Milan Real Madrid con il mister Emanuele Bottoni grazie a tutti buona giornata buon lunedì e buona settimana